Ciao gente, oggi carciofi alla giudia. Come farli? Adesso vi passo vedami. Tiriamo via le foglie esterne dei carciofi, togliamo via la parte fibrosa esterna del gambo fino ad arrivare alla parte tenera, via anche le punte superiori del carciofo, strofiniamo con il limone per non farli annerire, apriamo leggermente l'interno e li friggiamo 4-5 minuti a 150 gradi. Scaldiamo la panna e appena inizia a bollire aggiungiamo il formaggio grattugiato. Frustiamo fino a crematizzarla. Passati i 5 minuti scogliamo i carciofi, li facciamo raffreddare, li apriamo per bene senza romperli e li rifriggiamo in olio bollente a 190 gradi fino a farli diventare croccanti. Pistico di sale e impiattiamo, mettiamo la crema, il carciofo, una macinata di pepe fresco e sì o no? E adesso è arrivato il momento di assaggiarlo. Massabo!